...una atmosfera di gaia giocondità, non disgiunta ad una spontanea e sincera emulazione, e fra l'interessamento e l'incitamento di migliaia e migliaia di piccoli ed anche grandi spettatori, si sono svolte sul magnifico piazzale del Pincio le gare per bambini, alle quali hanno preso parte centinaia di concorrenti. I futuri campioni del volante, gli assi del ciclopattino e del triciclo, le piccole future aspiranti alla gloria di Ondina Valla, del salto alla corda, danno prova della loro abilità e del loro entusiasmo durante le emozionanti gare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!